Buonasera, continuiamo a dialogare di Sigmund Freud. Abbiamo già visto in una serie di lezioni precedenti la natura rivoluzionaria della psicanalisi, il fatto che esso ha cambiato il modo di pensare, di concepire le cose, i grandi influssi che ha avuto su tutta la nostra cultura, dalla letteratura, al cinema, alla pittura. Abbiamo visto anche che una scoperta fondamentale della psicanalisi sarà certamente quella dell'inconscio, che farà superare l'approccio fisiologico e i problemi mentali e consentirà di entrare in questa dimensione profonda che è dentro di noi. Sappiamo, appunto, che ci porterà a dire che la coscienza e la psiche non coincidono, in qualche modo non siamo padroni in casa nostra. L'inconscio sarà studiato prima tramite l'ipnosi, che sarà la porta di accesso all'inconscio, con Charcot a Parigi e poi dopo a Vienna con Breuer, con il caso di Annao, ma poi dopo sappiamo che l'ipnosi sarà abbandonata da Freud, perché l'ipnosi realizza una liberazione della psiche, su strade dell'inconscio, degli impulsi rimossi nell'inconscio, quindi una liberazione degli effetti che creano le nervosi non positiva, cioè non libera nel modo giusto, non consente la scarica giusta, gli impulsi negativi che sono dentro di noi, perché poi questo deve essere consapevole e questo avverrà con un famoso metodo di Freud, quello delle associazioni, delle associazioni libere, che lo psicanalista realizza senza l'ipnosi in una forma consapevole. Questo però ci porta a chiederci che cosa c'è dentro l'inconscio, quali sono gli impulsi che sono dentro di noi, cosa caratterizza l'uomo nel profondo e perché dentro di noi, nella dimensione più profonda e più autentica, ci sono queste forze, questi conflitti, queste situazioni molto complesse. Ma perché l'uomo è spinto da una grande energia biologico-sessuale e questo che caratterizza l'essere umano, questa energia biologico-sessuale che spinge, che guida, che anima l'esistenza. Queste forze istintive, le forze istintive che sono dentro di noi sono regolate da due grandi principi, il principio di piacere e quello di realtà, che sono poi i principi che guidano tutta la nostra esistenza. È chiaro che questo ci porta subito a capire come, nella presenza di questi due principi, un po' tutta la nostra esistenza è la parte più profonda della nostra psiche, è caratterizzata, tutta la nostra psiche è caratterizzata da parti in conflitto, da un dualismo, sostanzialmente, tra la parte conscia e la parte inconscia, un dualismo, dove l'io sarebbe la parte conscia, la parte razionale, però per certi versi è la parte meno importante, la parte di superficie, la parte più piccola è quella che poi subisce determinate pressioni che vengono dall'inconscio. E poi noi siamo però anche caratterizzati da una serie di istinti che ci vengono da un'appartenenza ad una certa specie, istinti che sono profondi dentro di noi, che in qualche modo hanno anche caratteristiche aggressive e che spingono sull'io. La nostra soggettività, come disse Galiberti, la soggettività per Freud è una soggettività doppia, quella di io, io è quella di specie, quella di parte razionale, quella di parte legata a determinati istinti. Ecco, vediamo la complessità allora della nostra natura e di ciò che la caratterizza. Qui è facile vedere gli influssi di Schopenhauer, la sua riflessione sui grandi impulsi che sono dentro di noi, la volontà di vivere che ci caratterizza, le grandi tendenze anche irrazionali che così segnano la nostra esistenza. Abbiamo detto due, abbiamo detto che allora l'uomo è spinto da questa energia. quindi l'uomo è un animale desiderante, un'energia che lo porta a desiderare, una volontà di vivere, una volontà di vivere, pensando Schopenhauer, che è divisa però tra due dimensioni, tra due principi, deve convivere tra due principi. Abbiamo detto il principio di piacere che è quello che tende al soddisfacimento dei nostri desideri, che sono quelli che ci animano, che ci spingono, che trovano però questo principio di piacere e trova un censore sulla sua strada che è il principio di realtà, che è un rinvio delle nostre gratificazioni e costringe le nostre pulsioni in genere aggressive, perché c'è un elemento di aggressività in noi, connetturato ai nostri istinti, al nostro appartenere a un certo tipo di specie, legato anche al fatto che una certa aggressività è funzionale anche così, all'esigenza di difenderci o di difendere la nostra prole, insomma, certe pulsioni aggressive che sono in noi devono incanalarsi secondo il principio di realtà se in altre vie, vie considerate legittime, giuste, valide, sono le vie della civiltà, le vie della civiltà. E' certo che per le repressioni a causa del principio di realtà, l'istinto, questa è la repressione che il principio di realtà mette in campo, l'istinto cerca altri sbocchi, perché l'istinto c'è in noi, è coratturato, è nella nostra natura, non è un qualcosa che è fuori da noi, non so, parafrasando Marx, è qualcosa di strutturale dentro di noi, che non lo si può togliere, c'è, e cerca altri sbocchi, altre vie d'uscita. Se non riesce a sublimarsi in opere d'arte, in attività considerate di un certo tipo che sono in grado di far emergere le nostre pulsioni, però in una forma non pericolosa, non aggressiva, e se gli ostacoli sono impermeabili, a qualsiasi tipo di deviazione, e la spinta dell'istinto diventa nevrosi, cioè in qualche modo l'istinto deve trovare una via d'uscita. Se non la trova in un modo, per così dire, positivo, se non si sublima, se non riesce a realizzarsi in un certo tipo di attività, di produzioni, di lavori, incanalando in modo positivo in un certo senso la sua energia, la trova in un altro, un altro naturalmente negativo, un altro naturalmente negativo. La malattia viene proprio da qui, per certi versi, dallo squilibrio che si crea tra la parte conscia, abbiamo deciso già prima il dualismo che c'è in noi, dallo squilibrio che si crea tra la parte conscia e quella inconscia. Qui viene la malattia, solo che, ecco, una malattia che è nevrosi quando ancora resta l'io, l'io in qualche modo mantiene una sua posizione, diventa psicosi, quando l'io poi è completamente annullato, qua siamo di fronte a situazioni più difficili, più gravi ancora, naturalmente più gravi ancora. Alla fine Freud, negli anni, Freud inizierà a far emergere, a parlare di istinto di vita, a far emergere due definizioni, due ulteriori definizioni di dimensioni che sono dentro di noi. Da una parte parlerà di istinto di vita, eros, che si esprime nell'amore, nel piacere, nel desiderio di piacere, contro un istinto di morte, e tanatos, due divinità, due riferimenti greci, eros amore e tanatos morte, che si esprime nell'odio, nella forza, nell'aggressività. L'istinto di morte è potente dentro di noi, in una forma potente, l'uomo è per natura aggressivo, come ho detto prima, appartiene alla specie, non è solo io razionale, anche la soggettività dell'uomo è doppia come io razionale, come specie, e come specie si caratterizza per una serie di istinti, innanzitutto istinti aggressivi, quindi l'uomo è aggressivo. C'è nell'uomo una crudele aggressività, dirà, naturalmente è perché la natura ha dato all'uomo per difendere la prole, ha dato per difendere la prole, naturalmente non solo per questo, cioè si realizza in una serie di dimensioni. Questa ostilità degli uomini tra loro, la società incivilita, la società civile, per così dire, è minacciata, perché questo comunque, l'istinto di morte, è una minaccia, perché la realizzazione di tutti i nostri desideri, nella sua realizzazione massima, è solo una minaccia. Pensiamo a Hobbes, Hobbes, nello stato di natura, ogni uomo è lupo per l'altro uomo, c'è una guerra di tutti contro tutti, il rischio che ci sia una guerra di tutti contro tutti, naturalmente, c'è questo tipo di rischio, ovviamente Hobbes, l'analisi di Hobbes, era diversa, di natura politica, qui, di un altro tipo. E allora, Freud condanna la non civiltà, ma nel senso di un eccesso, di un abbandonarsi ai nostri impulsi istintuali, alla nostra dimensione istintiva, connaturata, così, alla nostra specie, alla nostra natura, più per certi versi anche animale, e al fatto che appunto siamo guidati da certi impulsi aggressivi, condanna questa non civiltà, però anche le repressioni eccessive realizzate, abbiamo detto prima, il principio di realtà, le repressioni eccessive che sono fonti di angoscia, di repressione, per certi versi anche di nevrosi, per certi versi anche di nevrosi, e alleviare queste sofferenze a Freud, sappiamo che portano a demistificare certi valori, pur necessari, probabilmente che per dominare è per dominare l'istinto di morte, necessario per dominare l'istinto di morte, ma che non diventano strumenti di tormento, di repressione per i singoli, una serie di nevrosi e di situazioni complesse erano proprio nate dalla società autoritaria, repressiva dell'epoca, dell'epoca, e allora, a un certo punto, Freud ci parlerà della necessità che è l'uomo di rinunciare alla sua felicità per rendere possibile una vita associata, rinunciare una parte dei nostri impulsi per consentire la civiltà, e Freud naturalmente non nega la civiltà, ma non permette al super ego, poi emergerà, emerge nella sua, sappiamo, nella sua visione della psiche, questa terza dimensione che è quella del super ego, che è una dimensione morale, di accecare, tra virgolette, il nuovo tipo, e quindi di impedirgli di realizzarsi almeno un certo tipo di creando una morale soffocante, repressiva. L'uomo civilizzato quindi ha venduto la possibilità della felicità, forse si può dire di una parte della felicità, della felicità per un po' di sicurezza, da qui nasce poi la civiltà, questa necessità di un incontro, di un incontro tra la possibilità di realizzarci o di realizzare le parti più profondi che sono dentro di noi, i nostri impulsi, però limitando, limitandoli, limitando la parte della nostra libertà in cambio di una convivenza, in cambio di una convivenza, in cambio di una convivenza. Mi fermo qua, vi ringrazio per avermi seguito, vi aspetto ai prossimi incontri dedicati così alla struttura della libido che in modo particolare approfondiremo. Grazie, a presto.